Didacta Italia Il più importante evento in Italia dedicato al presente e al futuro della scuola Due minuti a mezzogiorno, ultima giornata di Didacta 2023 in diretta dalla Fortezza D'Abasso e purtroppo non è riuscita a venire la prof spettinata di... scusate, so per avere un attacco di tosse scusate, purtroppo non sta benissimo, ha perso la voce, comunque la salutiamo, speriamo di rivederla il prossimo anno insomma delle altre occasioni, ma ci ha raggiunto in studio, allora qua ci sono tanti saluti, persone che si fermano, fanno foto è così, è così, io sono catturato, che devo fare, che devo fare, ciao, ciao Lombini Con noi c'è Vincenzo Schettini della Fisica che ci piace, ciao Vincenzo, benvenuto Tesoro, grazie, bentrovati, bentrovati a voi, come va? Tanto lavoro in questi giorni? Tanto lavoro in questi giorni, ma bene, è una cosa positiva assolutamente tu immagino anche Vincenzo, tanto lavoro Tanto, sì sì sì, tanto, anche perché insomma con Fiera Didacta, con Paola Concia, con tutto il gruppo insomma stiamo mettendo su da meno di un anno un lavoro in sinergia anche per poter socializzare la bellezza di questa realtà che è insomma della Fiera Didacta per invitare tanti altri docenti a partecipare, tanti altri presidi quest'anno c'è stata tantissima, mamma mia, una cosa pazzesca Riplicata rispetto all'anno scorso, mi hanno detto Sì sì sì, assolutamente, anche in Sicilia e guardate è stata un'edizione pazzesca quella di ottobre scorso E come sta andando Vincenzo queste due giornate passate e questa di oggi che già siamo a metà più o meno? Allora guarda, io in realtà mi sono chiaramente fatto un giro da prof, da docente in Fiera per vedere un po' le varie novità e quello che ho notato sono tre cose che ho individuato come qualcosa che mi ha lasciato veramente piacevolmente sorpreso Uno, la presenza di tantissime maestre e maestri quindi la presenza delle scuole primarie come appunto operatori scuole primarie, maestre e maestri, tanti Due, tanti stand dedicati a un cambio di mentalità per quanto riguarda i bambini quindi ad esempio non tanto il concentrare l'attenzione sulla tecnologia per i bambini quanto più sul gioco, sul hands on per i bambini, no? Che ti devo dire costruzioni, cose, perché per me è fondamentale farli tornare a... anzi far assaporare loro Toccare Con i cinque sensi, bravissimi, è giocato perché ormai insomma di tablet va bene, d'accordo, però devono essere destinati a ragazzi più grandi e poi l'altra cosa che mi ha colpito è la presenza anche di molti bambini con i genitori È vero, ho visto anch'io È vero, hai visto, infatti Tantissimo Ciao, ciao Continua a farsi foto tutti, è bellissimo Famiglia, anche studenti Ah, poi scusa, dico un'altra cosa di bonus, la quarta cosa ma vogliamo parlare di quanta gente mi ha fermato per farsi i selfie? Ho visto Ragazzi, tanta roba Ma non solo qua, stanno passando, ti vedono, ti salutano È vero Fanno foto Si girano per farsi la foto Sì, sì, sì Fate la foto, fate la foto Potete fare i selfie Potete fare i selfie Non so se questa cosa Allora c'è Vincenzo che sta facendo esatto le foto mentre sta facendo... No, vabbè, ma perché evidentemente... Guardate, il senso del social è proprio questo Cioè noi che abbiamo scelto, io che ho scelto come tanti altri Qui ci sono anche Matteo Saudino e Elia Bombardelli oggi tra le altre cose Se li volete intervistare, avete degli slot qui a disposizione? Allora, oggi siamo pam 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 Subiti, subito pieni Però ve li racconto, Matteo Saudino e Elia Bombardelli che saranno oggi pomeriggio ad un incontro importante Li faremo, parleremo del prof perfetto se esiste questa figura In realtà è una provocazione naturalmente Beh, noi che abbiamo scelto questo mestiere, l'abbiamo scelto perché Portare nei social la scuola significa essere social Lo vedete adesso con tutti quelli che si stanno fermando qua Perché poi tanti docenti, non solo studenti È vero, ma sapete che tanta gente si mette a piangere, si commuove con me Allora, che cosa vuol dire questo? Che noi abbiamo bisogno di sentimenti, abbiamo bisogno di passioni E di condivisione Esatto, di condivisioni Ecco, Vincenzo, che cosa è cambiato in questo anno? Ci siamo visti a maggio dell'anno scorso Che cosa è cambiato? Novità? Mamma mia ragazzi E' stato un tornado Un tornado, perché io sono uscito ad ottobre con il libro Ok E il libro ha decretato un enorme cambiamento Allora, a parte che da marzo scorso, quindi meno di un anno fa No, un anno fa è iniziata proprio la mia scalata Ad Instagram, cioè i miei numeri sono saliti in maniera Esponenziale Incredibile, pazzesca, assolutamente Contemporaneamente a ottobre ho presentato il mio libro La fisica che ci piace Che si è classificato al nono posto della saggistica 2022 Come libro più venduto Guardate che è uscito a ottobre Grande risultato In due mesi e mezzo Cioè ho polverizzato altri risultati Questa è una cosa molto importante E oltretutto La fisica che ci piace ha vinto Dico ha vinto perché è il libro che ha vinto Ma ovviamente, pare di aver capito, ho vinto io Ovviamente il premio Elsa Morante Ragazzi e esperienze Quindi un libro di saggistica che vince un premio letterario È una delle prime volte che capita Sta cambiando molto Sto incontrando tanti docenti Sto incontrando tante scuole E come concili questo? Che belli che sono Guarda che belli che sono Ciao Salutiamo chi ci guarda Non ci può sentire purtroppo Perché non abbiamo le casse esterne Infatti perché tutto chiuso Però insomma li salutiamo E come concilio? Cioè è questo nuovo boomerang? Io sono in part time da tre anni Attenzione Io sono in part time da tre anni E da quest'anno sono a sei ore Quindi in realtà sono sceso addirittura da nove Ulteriormente da nove a sei O due giorni solamente Ok E quindi questo mi permette dal martedì mattina Di poter dedicarmi anche ad altro Perché naturalmente sono sempre in giro Però molto spesso sono in giro Ti mancano un po' gli studenti Cioè magari riducendoti a sei ore Magari li incontri un po' meno Ti manca un po' O comunque sei entusiasta Perché stai percorrendo un percorso Guarda in realtà io Gli studenti miei Cioè il part time che cosa succede? Riduce semplicemente il numero di classi Esatto Ma non riduce il numero di ore Che tu fai con gli studenti che hai Ok Io invece di avere sei classi ne ho due Basta Ok Quindi mi rivedo sempre Certamente è chiaro che io sento Una energia diversa Differente quando vado a scuola E si vede anche attraverso i video che posto Che è quello il mio luogo naturale Io sto bene Quindi finché reggerò anche a livello di Come si può dire Di interazione tra scuola e tutto il resto Continuerò ad insegnare E i tuoi studenti come si c'è? Nel senso comunque tu sei un personaggio Mai conosciuto I tuoi studenti lo sapranno Loro come si pongono? Ci stanno Che sei un docente famoso conosciuto O per loro sei semplicemente il loro docente? Ovviamente è chiaro che loro seguono i social come tutti gli altri Quindi hanno questa percezione che è molto diversa rispetto al passato E sì sono contenti In realtà io faccio sempre questo esempio E come lavorare che ne so Per il Presidente della Repubblica Tu sei nello staff del Presidente della Repubblica Non so Allora questa cosa ti esalta enormemente la prima settimana Dopo un mese sei contento Dopo un sei mesi sei abituato A vedere il Presidente che passa davanti a te Ora non voglio dire che lo so il Presidente della Repubblica Ci mancherebbe No per dire che sono abituati Lo sono abituati Cioè mi vedono sempre Quindi la mia presenza diventa una presenza familiare Quindi perde un po' potere la figura dell'influencer Cosa che invece diventa quasi sterica in giro Perché io adesso mi rendo conto che l'impatto che si ha con me A volte l'impatto che si ha anche con altri influencer C'è gente che mi sviene in braccio Tra le braccia si mette a piangere C'è gente che si sente male Cioè è successo di tutto e di più Ok E questo mi fa capire che lì entri in una sfera Che è un po' diversa da quello che è il mestiere che io facevo un anno fa Che continua a fare Vincenzo D'Arte hai anticipato del Prof Perfetto Vuoi farci un piccolo spoilerino Su quello che diremo Anche sul tuo punto di vista Cioè la risposta è ovvia Però dici di più su questo Che ovviamente la figura del Prof Perfetto non esiste E questa era soltanto una provocazione questo titolo Cioè è normale che non esiste il Prof Perfetto Ma che ogni professore può avvicinarsi ad un livello di consapevolezza del proprio mestiere Di felicità di fare questo mestiere Cercando di puntare sulle cose che funzionano in classe E piano piano eliminando tutte quelle che non funzionano Cioè che non entrano in connessione con i tuoi studenti Perché io lo dico sempre Cioè non è quello che faccio io che necessariamente funziona in classe Cioè oggi nel 2023 ancora una volta ci può essere per esempio un professore rigorosissimo Che fa una lezione frontale ma che è talmente carismatico e bravo Che funziona Che funziona Io non ho mai detto il contrario Cioè lo stile lo cerchiamo noi con noi Provandoci e vedendo Non funziona così Io non sono quello che deve fare sta cosa qua Devo cambiare Ed è quella la direzione, la via che ci porta Ovviamente non verso la perfezione Ma verso la felicità di fare questo mestiere Cioè di farlo in maniera felice Cioè finire la scuola e che dire Già è finita? È già finita la giornata? Può essere? Se non ti passa mai Però ti chiedo Vincenzo È importante quello che hai detto La felicità di fare questo mestiere Sì, sì Però parliamo anche del fatto che magari non sempre è facile essere felice di fare il docente Certo, certo Nel senso che è un mestiere difficilissimo e possiamo anche dirlo poco riconosciuto Sì, sì, sì Tra l'altro è un mestiere ancora nel 2023 attaccato da tanti punti di vista Prima di tutto da quello burocratico Cioè ancora la scuola è molto molto burocraticizzata Non si libera da queste benedette carte Vedete? Ancora una volta siamo sottoposti alla gogna di inutili consigli di classe Che sono tornati in presenza Io vi prego faccio un appello Io faccio un appello da radiodidacta Tagliate un pezzo, mandatelo a qualcuno Cioè ma non è possibile che nel 2023 Dopo che abbiamo passato una pandemia Abbiamo adesso esistrà la PEC La firma digitale Ci siamo tutti organizzati Ci siamo digitalizzati Abbiamo imparato a fare via Siamo tornati a fare tutto in presenza Mi chiedo, chiedo al ministro Ma a che serve sta storia? E vogliamo dire un'altra cosa Perdonatemi Quando si fanno i consigli di classe in tutta Italia Ci sono centinaia di docenti Che si muovono con le loro auto Che percorrono dai 10 ai 150, 200 km Inquinando, immettendo anidride carbonica Allora che cacchio parliamo a fare? C'è bisogno? Di green Che parliamo a fare di green Se poi facciamo queste cose qua Per piacere anche al ministro Al nuovo governo Un appello chiaro La scuola deve cambiare da questo punto di vista La pandemia e il virus Ci hanno insegnato anche cose buone Per piacere facciamole Poi Volete fare gli scrutini in presenza? Va bene Facciamo gli scrutini in presenza Anche se io sono sempre il parere Che se ci avete fatto fare la PEC Ci dovete far usare la PEC Se no questa PEC la buttiamo nella spazzatura Quindi per piacere Prendeteci sul serio Prendete i docenti sul serio Esatto È interessante quello che dici Vincenzo Perché in effetti Sembra quasi che Insomma Non veniate presi sul serio Un po' Vabbè Si arrangeranno Che sì perché tanto voglio dire Chi se ne frega Della pandemia è passata Quindi voglio dire Invece andiamo nello specifico Chiediamoci tutto quello Che può continuare a distanza Che continui Ovviamente io non sto parlando Delle lezioni Ma ci mancherebbe Le lezioni sono tornate in presenza Viva Dio Ma tutto il resto Può essere fatto a distanza Vi prego È inutile che parliamo del green Se non sappiamo fare il green Il green non è un colore Il green è un dovere Giusto E ultima domanda Vincenzo Anche riguardo A questo aspetto Di come la pandemia In qualche modo C'è un attimo risvegliato Ci ha chiesto di fare Questo passo in avanti Con la digitalizzazione Cosa ti aspetti Dal piano scuola 4.0 Non solo da parte delle scuole Ma anche Dalla parte ministeriale Insomma Nel sistema scuola Certo Io mi aspetto Una integrazione Con quelle che sono state Le buone pratiche del passato Perché la digitalizzazione Non deve cancellare Completamente Tutto quella che era La didattica tradizionale Questo è uno sbaglio La didattica digitale Si deve integrare Al tradizionale Quindi ci deve essere Questa sorta di integrazione Ormai Ne abbiamo abbastanza Del racconto del digitale Abbiamo raccontato E straraccontato Ora È importante Individuare I giusti percorsi Che possano creare Un equilibrio Per chi studia Ricordatevi Che gli studenti Sono disorientati Ricordatevi Che gli studenti Devono essere educati All'uso del digitale Allora Perché no In una lezione Affiancare al tablet Il quaderno di carta Perché no Far prendere coscienza All'insegnante Che è lui Che è detta Le regole Nella sua classe Non ci devono essere Dei punti ministeriali Da seguire Quelli devono essere I suggerimenti Il ministeriale Deve essere capace Attraverso la formazione Di dire ai docenti Vi voglio rendere Persone più felici Quindi cosa posso fare Per rendervi più felici Ditemelo Ditemelo Me lo dovete raccontare voi Docenti felici Studenti felici Perché poi diventano Studenti felici E la seconda cosa Dire ai docenti Siete voi Che state entrando in classe Adesso che vi ho riusci più felici Sono stato capace Di fare questo Siete voi che entrate in classe Siete voi che stabilite le regole Quando il ministero dice Non si devono usare I telefonini in classe Quel messaggio È carta straccia Se non viene preso Dal docente È reso Parte della lezione Cioè Il docente Vede che gli studenti Si distraggono Perfetto Via i tablet I quaderni Eh ma la professoressa Della scorsa lezione Ha detto che Io sono il docente vostro Io insegno matematica Qua stabilisco Io le regole Questo è il docente Vero Però ripeto La prima cosa che bisogna fare Bisogna renderli felici Mi chiedevano l'altro giorno Quali corsi di formazione Si potrebbero organizzare Per i docenti Veramente nuovi Innovativi Io ho parlato Di corsi di formazione In cui i docenti Possano Cantare Possano ballare Possano socializzare Fra loro Possano esprimersi Possano parlare Basta con questi corsi Di formazione Sul powerpoint Basta Questi corsi di formazione Del 72 Non hanno più bisogno Powerpoint È online Se vuoi imparare Se non sai usare Nel 2023 Powerpoint Vai su youtube E scrivi Tutorial Powerpoint E lo trovi E lo trovi È inutile Consumare benzina Garburante Andare a scuola E fare powerpoint Perché vi prego Queste sono prese Per il Passate il termine Culo Invece oggi I corsi di formazione Devono puntare Sulla serenità Del docente Il docente deve diventare sereno E perché no Un corso di formazione Che tiri fuori L'energia Di queste persone È importante Perché i docenti Sono spenti Chiedeteglielo Sono spenti Nessuno gliele chiede Queste cose È vero Tutti dicono Sono sottopagati L'abbiamo capito È vero Sono sottopagati È sempre così È vero che sono sottopagati Ma sono anche Siamo anche spenti La mia energia È venuta dalla rete Io mi sono riscattato Grazie alla rete Ma molti Non riescono a fare Questo passo E allora è dovere Del ministero Dire come possiamo Renderli più felici Giusto Vincenzo Ci hai dato un sacco Di stimoli E riflessioni Su cui soffermarci Un attimo Ma non soltanto come docenti Ma anche scuola intesa Come sistema Dalla parte ministeriale Io ti ringrazio tantissimo Di essere stato qui Con noi oggi Ti auguro un buon proseguimento Guarda qua fuori Ti aspettano Quindi secondo me Tempo di aprire la porta Sta arrivando Sta arrivando Tempo di aprire la porta E vedrai che ti assaliranno Io mando un saluto pazzesco A tutti i lovini Di Radio Didacta E niente Insomma ci vediamo presto Ci vediamo presto Alla prossima edizione di Didacta Ciao Vincenzo Buon lavoro C2 Group Specialisti in soluzioni innovative Per le scuole italiane Per le scuole italiane